volevo registrare questo messaggio per tutta la nostra categoria che si trova nel pieno dell'emergenza coronavirus soli in azienda con tutto il prodotto come potete vedere ancora sul campo senza sapere che che futuro avremo perché sicuramente l'emergenza salute la mettiamo al primo posto anche noi che abbiamo le aziende che purtroppo sono cadute in questo momento che era quello di vendita in ogni caso pensiamo anche al nostro futuro non riusciamo a vedere una luce perché sicuramente una battosta così che non ti permette di realizzare la vendita di recuperare i soldi che si era investito per produrre ci ammazzerà un sacco di aziende non ce la faranno non sappiamo anche noi che pesci prendere ovviamente la speranza è l'ultimo a morire ma una cosa così non era mai successa a nessuno io volevo lanciare un appello per tutti i floricoltori liguri in questo momento non sanno non riescono a dormire neanche di notte